come sono a mio agio sull'overboard ecco l'ho camminato una pallonata non riesco a passare i palloni sei già arrivata sono 58 attenzione attenzione sono vivo per miracle e vai cos'è sta roba oddio ma è oddio aspetta dopo no soprattutto attenzione c'è una specie di ma no no non sono riuscita mi hai raggiunto sono in una specie di labirinto buono no no beccato l'ultima stricchetta mamma mia pensavo di averne preso una ma invece che c'è azzurra ti stai agitando ti stai agitando wow no wow anche qua wow per due sono lanciatissimo 70 per cento mi manca solo il 30 per cento forza ragazzi sto correndo come un matto aspetta che mi faccio freddare alla fine ok ho visto il labirinto ok ok e vai questo labirinto mi sto facendo cavolare c'è un azzurro e un po' il re qui è un po' il re qui non lo so perché lo so lo so oh cos'è sta roba me lo ricordo quel passaggio lì ci sono passato mezz'ora fa ma almeno su una volta su 100 hai vinto potresti vincere contro una potrei ma non dirlo troppo a voce alta cara perché io lo so che tu mi fai la fregatura adesso stavo per cascare giù ma su sto passaggio ok aspetta che non voglio fare il figo passando a tutta velocità perché ho paura di a parte che c'è sempre quel menu fastidiosissimo vediamo se riesco a toglierlo no perché c'era sto menu che diceva sempre vuoi comprare questa roba vuoi comprare quell'altra io non voglio comprare niente ma devo zero non mi interessa nulla 80% quanto ti manca a te? il profumo della vittoria victory è ma io sono tutti scorciatoie sì sì ma tanto sono l'83 ma vai ma tutti questi ostacoli due scatole che fanno venire si sta allenato in questi giorni ma no ma che allenato no ce l'era uno nascosto ma guardalo non l'avevo neanche visto non sbicciare il mio monitor guardati il tubo wow è sempre meglio qua ho scoperto di essere bravissimo in questo gioco io sono più brava niente ah sì beh lo scopriremo novantatremi 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 stiamo avvicinando al cento per cento ehi la la dai novanta novanta sei a meno di un ostacolo difficilissimo che non riesco a superare dovrei avercela fatta le palle le palle io le odio ma va veramente la cosa ancora ti piacerebbe acquistare il pass mondiale nooo no non posso farmi super superare alle palle no eh le ho passate però che fatica ho mi sembri di essere arrivata la fine ma è 97 la la missione completata ce l'ho fatta no azzurra per una volta che vinco io eh ma guarda che ero al 98 dai arriva alla fine va e così siamo a posto guarda che tu ci metti il ditino sullo schermo per dirgli che non vuole comprare quelle cose guarda qua che bravo che sono uuuu guarda che equilibrio che ho vediamo se arriva all'azzurra ti piacerebbe acquistare il pass mondiale nooo eccola qua la mia patatina ciao patatina ho frutturato hai visto e ce l'abbiamo fatta cosa c'è qua mondo 2 mondo 3 mondo 4 mondo 5 quindi questo era il mondo 1 si wow allora diciamo entriamo nel mondo 2 non lo facciamo adesso subito perché sennò mi tocca vincere ancora arriverà la vendetta ma così la prossima volta noi iniziamo da qua sono precipita sto precipitando ok mi si è caricato ah quindi dici che questo sarà un po' più difficile allora si presume giusto? allora ragazzi questo video finisce qui speriamo che mi sia piaciuto non so se lo dividerò in due parti perché insomma è abbastanza lunghetto quindi probabilmente il saluto ne vedrete solo uno vi saluto alla fine della seconda parte e speriamo insomma che via bla 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 speriamo quindi che il video vi sia piaciuto e lasciate un like commentate iscrivetevi al canale condividete con gli amici e insomma state qua che presto ci saranno altri nuovi video adesso di azzurra ne facciamo un bel po' dopo tale lei partirà per le vacanze con la sua mamma con la sua mamma quindi ci rivedremo un po' più avanti il giorno del compleanno perché il giorno del compleanno vi ricordo quale sicuramente faremo una live per salutare e fare gli auguri a dazzurra in diretta e io li farò proprio dal vivo quindi per me sarà proprio più facile quindi niente al prossimo video ciao ciao